Nuovo ospedale, siracusani beffati dal governo musulmanci bugiardo. Continua la sceneggiata da parte dell'assessorata della sanità e d'altra gente Ransa che a quanto pare ha dimenticato la vicenda del nuovo ospedale di Siracusa oggetto di una forte mobilitazione da parte delle istituzioni e delle forze sociali della provincia. Sull'importante argomento ritorna ancora una volta la vicepresidente della commissione bilancio alla Camera, l'onorevole Stefania Prestigiano, come di Forza Italia. Sulla esigenza di realizzare nel capoluogo l'Etuseo un nuovo nosocomio, sulla dove costruirlo e su quale livello di specializzazione e segnali si è svolto a livello politico ma anche mediatico un dibattito appassionato e forte che ha messo la regione in particolare l'assessore alla sanità dinanzi alle responsabilità di una programmazione gravemente penalizzante per i cittadini del siracusano e la sanità siracusana in generale usata come bancomat sanitario per le megastrutture tutte concentrate a Catania. Di recente è stato aperto al pubblico il nuovo ospedale a San Marco nella zona di Librino e a 50 metri dallo svincolo della tangenziale, cioè molto più vicino dell'ospedale Garibaldi. Tutto ciò è incomprensibile che a pagare sia la sanità siracusana. È offensiva per 403.000 abitanti siracusani ma anche per i 320.000 iracusani, commenta la parlamentare Prestigiacomo. L'arroganza, l'indifferenza, la sconsiderata presunzione che il governo musulmane ci sta mettendo in campo il cui modello ispiratore sembra giorno dopo giorno più vicino a un crocetto abisso. Insomma una falsa imitazione, una patacca che sulla sanità con il denaro pubblico ha il sapore della beffa.